La collezione d'arte dell'ambasciata italiana a Londra incantò anche la regina Elisabetta in visita nel 2005 con l'allora presidente Ciampi, una delle più belle rappresentanze diplomatiche del nostro paese all'estero, arricchita da capolavori italiani e inglesi come una natività di Bernardino Luini, due paesaggi di Alessandro Magnasco, quattro ritratti di Peter Lili, per non parlare degli eccezionali arazzi medicei e di altri periodi. Quasi un museo dunque che richiede periodici lavori di restauro. Così nelle sale dell'ambasciata per una settimana ha lavorato un gruppo di restauratrici coordinato da Maria Lutmila Pusca, già direttore di restauro ai musei vaticani, un team specializzato nell'uso di biotecniche, alghe o colori naturali. Utilizziamo nuovamente i pigmenti in polvere di origine naturale, quindi macinati come si faceva nel 400, e poi aggiungiamo del consolidante, del legante a seconda del dipinto che abbiamo in esame. Per l'ambasciatore italiano l'orgoglio di una sede tanto prestigiosa anche dal punto di vista storico e artistico. Ho pensato fin dall'inizio del mio arrivo di mettere a disposizione questa sede e queste opere d'arte agli italiani in generale, infatti questa veramente è una casa aperta con tanti eventi. Nel caso specifico abbiamo pensato anche di dare un'opportunità alle giovani restauratrici di venire qua, di darci una mano. Iniziativa sostenuta dall'Associazione Culturale Il Circolo. Esperti inglesi hanno osservato le tecniche innovative in vista di possibili future collaborazioni.